Ieri ho avuto modo di parlare di freelancing, di libro professionismo e di essere dipendente di un'azienda con una mia zia in piazza al tavolino e riflettevo proprio sul fatto che oggi il mondo del lavoro è cambiato rispetto alle persone che vogliono, che intenzioni hanno, che sogni hanno nel cassetto, che volontà hanno che le persone quelle competenti molte volte si sentono molto poco soddisfatte nel lavorare come dipendente nel clima aziendale perché non riconoscono appieno il loro potenziale espresso magari e quindi la maggior parte delle aziende oggi non sono attraenti per quei libri professionisti o comunque per professionisti che hanno quella capacità di fare un bel lavoro ma non si sentono valorizzati né per lo stipendio che prenderebbero con il contratto nazionale e né con il clima che c'è dietro culturale aziendale quindi molte aziende si sentono in difficoltà ad attrarre dei talenti, cosa che invece stanno facendo delle altre aziende e sono rese conto che per attrarre talenti, professionisti eccetera eccetera bisogna assumere non dipendenti ma libri professionisti o comunque persone con un altro tipo di mentalità e di lavoro perché sanno benissimo che quelli sono le migliori menti attualmente che possono portare maggior valore per la loro azienda che hanno un po' un impatto per la loro azienda esponenziale di crescita e di sviluppo quindi stanno pensando più ad orientarsi a cercare i talenti come libri professionisti e non come dipendenti e anche oggi trovare questo tipo di mentalità nelle aziende non è ancora molto popolare alcuni si sono resi conto e altri ancora no e stanno soffrendo nel fatto che non trovano i dipendenti che i dipendenti magari che trovano poi li lasciano a mezzana via magari se trovano di meglio a livello di stipendio li lasciano, non si fanno troppi problemi perché da una parte c'è un'insoddisfazione, non c'è una possibilità aziendale di sentirsi parte e quindi gli manca la felicità di lavorare per conto loro gli manca l'entusiasmo, il coinvolgimento che io so benissimo sia una delle cose più importanti che le persone cercano nel mondo lavorativo non tanto il numero che viene percepito ogni mese di stipendio a livello di conto ma è come ci fa stare perché la maggior parte del lavoro se tu lavori 7 ore al giorno lo dedichi della tua vita a loro, a quel tipo di lavoro, a quel tipo di ambiente quindi ci tengono oggi come oggi le persone come me, i millennials, i trentenni ma anche i meno trentenni, quelli che sono nuovi libri professionisti, giovani libri professionisti ma anche gli over 40 si stanno rendendo conto di questo che è importante per loro più essere in un ambiente di lavoro molto felice, molto sereno, tranquillo, coinvolgente è meno importante l'aspetto economico quindi se ci togli già l'aspetto di felicità, di serenità in un mondo del lavoro ci togli anche il discorso dello stipendio che se esci come libri professionista lo puoi prendere 5 volte se non di più, 10 volte di più rispetto ad essere un dipendente con lo stesso lavoro che fai, lo stesso tempo che ci dedichi ogni giorno a quell'azienda capisci bene che il mondo del lavoro sta cambiando e anche i libri professionisti stanno aumentando per dare spazio alla loro creatività, alla loro indipendenza, alla loro missione di vita, al loro progetto di vita per questo ci tengo tantissimo oggi ad accompagnare quelli che sono le persone che vogliono fare questo passaggio di vita per essere più indipendenti più ribelle rispetto a quelli che sono i suoi cotani che ancora credono nella multinazionale che li assuma e li faccia scalare la loro carriera, rendere le persone importanti ma si stanno prendendo la loro responsabilità di libri professionisti, di solopreneurs cioè persone che rendono la loro vita con le loro proprie forze, competenze e risorse soddisfacente a prescindere se c'è una multinazionale, se c'è una grossa azienda, se c'è un collaboratore, un capo che è già riconosciuto sul mercato ma si creano la loro strada step to step cioè piano dopo piano per poter arrivare a quello che gli permette poi di essere felice che oggi come oggi non è difficilissimo come lo era 50 anni fa perché non esisteva internet non esistevano i social, non esisteva tutto quel mondo che oggi abbiamo a disposizione che tanti ancora non si stanno rendendo conto, forse nel mondo del lavoro cioè che noi abbiamo accesso alle informazioni e alle persone soprattutto e agli esseri umani nel mondo con un click e siamo fortunati, pensate a quelli che non ce l'hanno questo potere di poter realizzare tutto ciò e stanno solo sperando che prima o poi arrivi anche a loro la banda ultra larga per poter fare streaming in diretta per arrivare il telefono sul montagna dove vivono nei loro borghi, nelle loro zone incontaminate cioè ci sono persone che ancora non hanno tutto ciò e stanno sperando di raggiungere questo potere di comunicazione, di interazione, di relazione che abbiamo noi oggi in Italia parlo e anche nelle altre nazioni europee quindi prendiamo le opportunità che stanno arrivando nella nostra vita prendiamole al volo perché come tutte le opportunità non durano per sempre ci sono delle onde e questa è un'onda secondo me interessante da esplorare se hai voglia di esplorare insieme a me io faccio un percorso di un programma di coaching di counseling, di mentoring proprio per marketers, freelance e startupper che sono coloro che vogliono avviare una propria azienda impressa a start up per poter rendersi indipendenti e anche felici della loro vita ciao